Un momento di riflessione e di condivisione in vista delle festività natalizie. In questura Frosinone, il vescovo Monsignor Ambrogio Sprafico, ha celebrato la Santa Missa. Durante la celebrazione sono state benedette simbolicamente alcune buste della spesa di solidarietà. Si tratta di una iniziativa di beneficenza che ormai da otto anni vede protagonisti tutti gli appartenenti ai vari uffici della Polizia di Stato della provincia di Frosinone verso le persone in difficoltà che vivono sul territorio ciociaro. Con la nostra professione abbiamo l'opportunità di contribuire a migliorare le condizioni di vita nelle nostre città quindi tutelare la legalità, tendere a favorire delle condizioni di vita pacifiche per tutti in ogni occasione. Naturalmente nel periodo natalizio il nostro impegno è ancora più intenso, più ramificato su tutti i territori e intensifichiamo i nostri servizi per tutelare anche naturalmente nei momenti di ferie e di vacanza chi ha bisogno di maggiore attenzione anche nella tutela dei beni. In più noi come Polizia di Stato ricorriamo spesso anche a rinverdire, a sensibilizzare quelle che sono le nostre motivazioni più interiori e questo ci fa stare sempre vicino al cittadino in ogni momento, anche nei momenti di bisogno e in questa occasione noi abbiamo promosso una raccolta di beni di prima necessità da destinare alle persone meno fortunate che hanno difficoltà anche in questo momento di feste natalizie e quindi abbiamo abbinato a quella che è la nostra attività operativa quotidiana anche questo momento di vicinanza verso chi è meno fortunato con questa raccolta di beni di solidarietà.